Il risultatismo, no a me piace il gioco, per esempio adesso, vediamo l'Ajax, che tutti guardano i fenomeni, vediamo l'Ajax qua di voi, sono curiosissimo di vederla, magari gioca una grande partita l'Ajax, sono curiosissimo perché proprio è questa divisione qua, l'Ajax Juventus, i situazionisti c'è quelli che dicono il grande gioco l'Ajax e la Juventus che è un'altra cosa, la concretezza, voglio vedere come va a finire, poi magari l'Ajax e fino ad adesso è una grande sorpresa della Champions, sicuramente gioca benissimo, diverte, il campionato non è in testa, però è in testa.